Il tempo passa e una decisione su come si dovranno svolgere gli esami di Stato è sempre più urgente. La ministra Azzolina sta un po' tergiversando e rischia di far perdere la pazienza anche alla sua stessa maggioranza. Per la verità, Azzolina ha già detto che lei vorrebbe l'esame in presenza, in modo da garantire maggiore ufficialità e maggior serietà. Ma gli ostacoli sono davvero tanti a partire dalla necessità di evitare problemi di vicinanza fra docenti, personaliata e studenti stessi. Sulla proposta della ministra ci sono state numerose prese di posizione arrivate anche alla nostra redazione. Non mancano infatti lettere di insegnanti, genitori e persino di medici, è il caso per esempio di un documento arrivatoci da Modena, che protestano e che chiedono che l'esame si possa svolgere a distanza. D'altra parte sostengono in tanti se ci si può perfino laureare via Skype. Perché mai non si potrebbe fare lo stesso per l'esame di Stato? In effetti le motivazioni adotte appaiono tutte più che ragionevoli, ma va anche detto che su questo problema specifico la ministra ha dalla sua quasi tutta la maggioranza. In molti si sono già espressi a favore, a partire da Gabriele Toccafondi di Italia Viva fino a Valeria Fedeli e a Camilla Sgambato del PD. Molto più complicata è invece la vicenda del rientro a scuola a settembre, sulla quale le dichiarazioni della ministra hanno provocato un vero e proprio caso politico. Nella giornata di sabato Lucia Zolina aveva parlato del problema nel corso di una intervista rilasciata a Sky TG24, affermando che per settembre si potrebbe pensare ad una organizzazione mista, metà alunni in classe e metà a casa con lezioni a distanza. Le reazioni sono state però pesanti e immediate. Gli esponenti di Italia Viva hanno subito rimarcato che non è accettabile che la ministra faccia annunci su questo tema senza neppure essersi confrontata nel governo o in Parlamento. A che è servito aver nominato una task force se poi si va avanti senza che neppure si sappia cosa dicono gli esperti? E Patrizio Bianchi, presidente proprio del gruppo di esperti nominati dalla ministra, ha ricordato che il tema fondamentale è quello della numerosità delle classi e che questa potrebbe essere proprio l'occasione per intervenire sul problema. Resta il fatto che tra sabato e domenica sono intervenuti in tanti a bacchettare la ministra, tanto che lei stessa in una diretta Facebook di domenica sera ha tenuto a precisare che quella del giorno prima era stata soltanto una proposta per aprire il dibattito sull'argomento. Per la verità però negli ultimi giorni la posizione di Lucia Azzolina si è indebolita non poco soprattutto per la vicenda del reclutamento. A chiedere un concorso per soli titoli infatti non è soltanto l'opposizione e la Lega con Mario Pittoni in particolare ma anche la stessa maggioranza PD, Italia Viva e l'EU. In settimana la Commissione Cultura del Senato esaminerà gli emendamenti tesi a dare avvio a un concorso per soli titoli e se il dibattito dovesse concludersi con un voto favorevole su questa ipotesi Azzolina dovrà inevitabilmente tenerne conto. Tutti i temi questi sui quali nei prossimi giorni il dibattito proseguirà. Quindi voi continuate a seguirci su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it soprattutto continuate a inviarci i vostri commenti, i vostri suggerimenti, i vostri materiali. Noi ovviamente continueremo a darne conto come sempre. Grazie a tutti.